Può sembrare una contraddizione o forse una provocazione, ma non lo è affatto. C'è anche una porno star, Priscilla Salerno, che da anni vive tra il Veneto e Miami, in questo progetto ideato insieme all'avvocato Stefania De Martino, da anni impegnata in attività a sostegno dei diritti delle donne. Il revenge porn è una pratica molto diffusa, è una vera e propria forma di violenza che si manifesta attraverso la diffusione, non autorizzata da parte di un partner o di un ex, con finalità di ricatto di video con immagini di sesso esplicito. È la cosiddetta porno vendetta e spesso ad esserne vittime sono i minori. È proprio agli studenti si rivolge questo progetto, con incontri mirati nelle scuole, per parlare dei rischi della rete e dei rischi connessi agli scambi di foto o video con contenuti espliciti. Il nostro è un progetto di donne, per le donne, e ho conosciuto Stefania De Martino, che è la mia partner in crime in questo percorso. Il nostro obiettivo è fondare un'associazione, di cui abbiamo già dato il nome, si chiamerà Lilith, per aiutare queste donne in difficoltà, perché molte volte è solo un aiuto che ci vuole. Bisogna saper usare internet e educare le nuove generazioni ad essere un po' più furbi. C'è stato il mio primo incontro in una scuola al liceo Perito Levi di Eboli, con i ragazzi dei 16-15 anni, non pensavo fossero così attenti ad una problematica così importante, perché comunque se ne sente parlare tantissimo, ma non sapevano cosa era il sexting, non sapevano cosa era il revenge porn, la denominazione, che è una vendetta pornografica. Perché proprio Priscilla Salerno lancia questo messaggio, va a ideare questo progetto? Perché proprio io, perché ho paura anch'io, perché comunque ho avuto un problema all'inizio della mia carriera, perché ve la racconto in breve, mi ricordo benissimo, ero in Friuli, Venezia, Giulia, ero ospite di un locale, avevo appena iniziato a fare spettacoli erotici appunto in questi locali, e conosco un ragazzino, ci parlo tutta la notte, lui era super gentile, e mi ammalia e mi dice perché non viene a bere qualcosa con me dopo il locale, comunque da sola, fuori di casa, sai, un ragazzino carino, mi ispirava fiducia, mi aveva conquistata, avevo fatalità, lo stesso albergo dove era lui, perché il locale mi aveva dato questo hotel, quindi io lascio la valigia nella mia stanza e vado da lui a bermi qualcosa, ma da lui mi aspettavano quattro ragazzi. Io non so, in quel momento la mia freddezza è stata talmente alta che ho detto ragazzi un attimo, se dobbiamo farlo vorrei essere consenziente, mi permettete di lavarmi? Era l'unico modo per scappare, quattro ragazzi, ma già uno contro una donna e sparare sulla croce rossa, l'hai finita, non so come ho fatto, io mi sono trovata in macchina mezza nuda e sono scappata via lasciando la valigia, lasciando tutto, ma non l'ho mai detto a nessuno perché appunto io facevo questo lavoro e poteva essere colpa mia. Nel privato, io nel privato della mia vita non ho un video, non ho una foto permessa ad un'altra persona, io ho regalato il mio corpo, ho tenuto il mio cervello, ma soltanto io so quello che voglio far vedere, non devi essere tu a far vedere quello che io non voglio, quindi del mio privato non esiste niente, è pericoloso, è pericoloso, quindi bisogna stare attente.